Eccoci qua amici, due parchi nazionali, 14 parchi regionali, 14 riserve regionali e tutto questo cos'è? È il sistema delle aree protette della regione Emilia-Romagna, da visitare sempre, comunque, in qualunque momento dell'anno, in qualunque stagione, sigla! Allora, qui nel parchi si può fare passeggiata a cavallo, passeggiata con l'asino, osservazioni degli animali dall'alba al tramonto, oppure quelle belle passeggiate per andare a castagne, oppure per cogliere i frutti dell'albero del pane, tante belle cose, che facciamo oggi? O andiamo a vedere la grotta, oppure ti tocca all'orientiringo l'alberi. All'orientiringo l'alberi, cos'è il gusto di un gelato? Cioè, tu vorresti andare nella grotta alla fine? Io voglio andare nella grotta. Ma ci vuole tutta la visita guidata, io ho paura. Dici, ci sono anche delle ragazze che... Abbiamo trovato una guardia ecologica, ma che cosa vuol dire esattamente fare la guardia ecologica? Fare la guardia ecologica vuol dire prestare ore e tempo libero per controllare i parchi della provincia di Bologna. Vabbè, l'estate è caldo, uno va al parco, però è solo l'estate, è pochissimo, o no? No, no, il parco è bellissimo in tutte le stagioni, adesso ci sono dei colori stupendi. È vero? No, il parco è vivibile in tutte le stagioni, poi adesso con le ciaspoli si può girare anche con la neve. È vero, è vero, il parco è sempre, qualunque terreno. Esistono le gomme da parco, sì, da neve. No, è bello qua, però è ripido, ho paura per la cervicale. Cosa dici, lo facciamo? Dai Bob, ci riescono anche i bambini, facciamo così, se c'è la faida, la prossima volta facciamo il giro sugli asini. È il giro sugli asini, che bello! Dai, allora andiamo, dai, speriamo. Fabio in un'ora e un quarto ci fa vedere la grotta del Farnetto. Esatto, adesso sta arrivando anche l'altro collega, Davide, che sta salendo. È stato bello? Com'è andata? Sì. Cosa avete visto? Cosa avete visto? I pipistrelli, a quest'ora! Totale durata? Un'oretta, un'oretta e un quarto. Difficoltà da 1 a 10, vieni qua, difficoltà da 1 a 10? Tanta. Tanta, bravo, tanto! Ci sono anche i leoni, le pecore, anche le pecore, vedi, vedi? Stanno salendo, ma quanti siete? Divertitevi? Molto. Ma hai fatto così, sì, no. Ma no, in realtà no. Basta avere l'attrezzatura giusta, non scivolare. Allora adesso andiamo, adesso arrivo, arrivo. Però se volete sapere di più su tutte le attività che si fanno nei parchi dell'Emilia-Romagna, basta andare sul sito Hermes Ambiente e cercare una stazione dei parchi, no? È facile. Arrivo! Possiamo votare però Asinello.